Perché no? Perché toglie la voce ai cittadini, diminuisce la democrazia nel nostro paese, il Senato insieme con l'Italicum, poi il Senato non lo votiamo più. Con l'Italicum si travolge l'esito delle elezioni dando un premio esagerato, le province non si votano più, i nostri bisogni non sono più rappresentati. Grazie per la visione!